sono andato ieri luca comics giornata e oggi mi sento come se mi avessero infilato un grosso tubo non vi dico dove prosciugato da ogni energia sono qua io e il mio amico leone praticamente è l'unica cosa che ho preso ieri visto che tra un po la gente si ammazzava negli stand poi io non sono un appassionato di fumetti e robe in generali volevo prendere un botto di gadget ma avrei finito tutti i soldi che che avevo nel portafoglio ecco leone dormi leone dormi e che dire è stata la mia prima esperienza è stata un'esperienza stimolante perché luca è sempre luca però ho fatto l'errore di andare di sabato e oltre al tempaccio che tra un po avevo le mutande con cui potevo farmi un drink talmente acqua c'era dentro che non c'entra niente perché drink e alcol comunque non badate a quello che sto dicendo perché non ne posso più non ce la faccio più troppa gente troppa gente comunque stimolante per fortuna ho preso il treno di ritorno niente in corso perché voi non vi immaginate la gente che c'era ieri luca e niente 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 sono completamente privo di forze vorrei salutare il mitico francesco detto sette ore molise un ragazzo che ho incontrato che mi ha fermato che ha fatto sette ore di pullman per andare a luca comics e ringrazio anche tutte le altre persone che mi hanno fermato in mezzo a quella bolgia demoniaca leone sta dormendo molto bello e niente luca è sempre luca però magari l'anno prossimo andiamoci in settimana io 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 io